ciao a tutti ragazzi comunque la bistecca che benvenuti ciao a tutti ciao gatto ciao sui sei hai mai saputo di tutti e 3.000 uno per uno cosa? tutti quanti in chat hai mai saputo di uno per uno no è impossibile ma poi non è che sono tutti e 3.000 sempre via a volte cambia sai che ho calcolato che il 10% di quelli che stanno in chat sono no quelli che stanno in chat sono 10% di tutti quelli che stanno in live tipo serial killer me lo dici si ma io faccio tutte ste stranzate calcolo cose rompono i coglioni perché tanto loro rompono i coglioni stalkerano quindi stalkerano anche io 10% e basta? secondo me si infatti come fate a calcolare una roba del genere? no perché c'è la percentuale delle statistiche finali no? quelli che hanno scritto in chat sono sempre di meno di molti di meno di quelli che stanno in realtà in live quelli che lurcano sono molti di più ti volevo offrire whisky grazie questo è un whisky non è whisky ovviamente no no è un te che cosa ti ho allora Dada oggi è venuto a trovarmi chi non presentiamo Dada Diego detto Dada su Twitch Dada col verificato quindi è proprio Dada come ho conosciuto Dada? è molto semplice ho conosciuto questo streamer attraverso Twitch no attraverso GTRP perché lui aveva questo personaggio che molti di voi si ricordano con molto affetto che è Darren che io chiamavo Darren e l'ho conosciuto lui cercava conforto negli altri giocatori quando gli altri giocatori non se lo inculavano di pezzo perché non volevano acquistare case o comunque non volevano seguire la sua storia a noi abbiamo appena abbiamo sentito questa voce stramba si 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 vogliamo la casa e e quindi poi mi hanno detto guarda è uno streamer si chiama Dada poi sono andato a spizzarmi il canale e mi sono innamorato grazie a Ricky Otto per l'abbonamento e oggi è venuto a trovarmi IRL che cosa hai fatto oggi? raccontiamo vi capita mai di guardare qualcuno e chiedervi che cosa gli passa per la testa? Dada sta cercando posto in Viale Italia accanto a Terrazza Mascagni è molto felice DIO Dada tutta a posto la benzina perché lo sbuffo? no ho mangiato mi ha fatto assaggiare un po' di piatti tipici toscani anzi livornesi tipo stai già inimicandoti un po' di persone di semplicemente che hai mangiato delle cose toscane ho mangiato delle cose toscane tipicamente toscane questo è te toscano si si del Giappone però molto grazie Lore senti che è acqua colorata si si con questo si stimpia si aspetta ma che sei matto? vabbè a te va bene vabbè a gocciolino dai allora alla tua a dadone che è venuto qua allora che cosa hai mangiato? la prima cosa che hai mangiato 5 e 50 no no che cazzo come si chiama? 5 e 5 5 e 5 che è una pizza no è un panino ripieno di di noci di una tortina di noci ma che cazzo di torta di ceci non di noci di torta di ceci buonissima se erano 20 strati di torta di ceci e poi il gelato tra 30 ci sono sapete che ci sono 37.000 gelatari in Italia e lui mi ha portato nella top 100 e hai preso il gelato non lui ma Barabba in realtà cosa vuol dire? che era Barabba e ci ha portato lì si Barabba ci ha consigliato tu hai detto che era un posto da Normi si però era tra i 100 migliori d'Italia era buono e poi volevo offrirmi anche 3 spritze però non l'ho rifiutato non solo no ti volevo no ma si può dire ma si può dire vabbè evitiamo vabbè 3 negroni 3 negroni si può dire volevamo farci 3 negroni il problema è che poi per fortuna l'orario non era il massimo e siamo andati al ristorante di mio padre e finalmente ha mangiato la ciccia esatto tipo una tonnellata e mezza di bistecca danese con patate e e il masella e poi ti sei fatto il tiramisù non mi hai detto il tiramisù è buonissimo ti è piaciuto? e adesso un po' di te dicono che è un po' razzista la parte tua il cocktail ragazzi non fate i furbini non farei male non ha scritto splash splash da terzo inquilino del cavo e spazio poi sarebbe un sogno addio quanti 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 questo tè questo tè dici come che è caldo ma è poco 40 vabbè tranqui è un whisky una yamazakura ragazzi prima di continuare però si 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 dobbiamo assolutamente unboxare il g-shock perché oggi è venuto è venuto il giorno del g-shock finalmente ho però un nuovo rollo eccolo qua non l'ho ancora aperto quindi non so di cosa se mi piacerà anche a te perché comunque one piece chi lo sa certo allora questa è la scatolina one piece con g-shock tra l'altro mi hanno detto che è la quarta collaborazione che g-shock fa con one piece a livello mondiale ma è la prima occidentale quindi è la prima volta che arriva un orologio di one piece g-shock in italia quindi ok levo questo affarino che sembrano sai quelle osse appunto da cavo allora è grosso però non così grosso come mi aspettavo perché di solito i g-shock li ho visti allora dovete sapere una cosa vi racconto allora nemmeno io però io l'unica cosa che conoscevo nella mia vita ora racconto una cosa su questa roba qua io ho conosciuto il mito dei g-shock in giappone grazie a gto perché eh si si era lo sbusto nel manga di gto un alunno non sto a spoilerare chi ruba i soldi della colonia montana per comprare un g-shock in edizione limitata con le mante che si illuminano sul quadrante e quindi e io ho detto ma questo g-shock e tutti volevano sto g-shock e si vantavano dei g-shock perché uno lo faceva vedere in classe eccetera mi sono informato io tutto quello che passava nel mezzo a gto per me diventava mito quindi anche il g-shock perché mi aiutava a conoscere un po' di più la diciamo la cultura pop comunque gli usi e costumi giapponesi no? perché era molto è figo è figo e quindi sono andato al g-shock shop che era a Odaiba ce n'erano un bot e loro fanno collaborazioni con anime eccetera e questo è con One Piece però non so mi devi dire il colore perché non lo conosco il colore nero i colori io sono dal tonico quindi a volte ah ok ma è proprio nero il petto ma però è bianco rosso nero però è una figata che bello allora eccolo qui ammazza è bello è bellissimo ma ti dice anche cose particolari? sì allora qua ragazzi qua c'è la scritta wanted tipo la taglia di One Piece e poi c'è il disegno di Rufy Gear 4 qua in negativo aspettate che però metta a fuoco taglie vabbè comunque si vede vabbè si si vede si vede è il Gear 4 di One Piece è è bello e e poi si c'è no aspetta c'è altro ah questo ah c'è questo il Gear 2 c'è Rufy che fa il Gear 2 quindi diciamo che ci sono i vari i vari stadi le varie trasformazioni di Rufy i vari potenziamenti power up di Rufy è un appassionato è fighissimo sì è bello sì è un bellissimo orologio secondo me non è pesantissimo comunque tranquillo ammazza ci sta io pensavo fosse molto più pesante vediamo se si illumina ah no no guarda questo quadrantino V c'è il cappello di paia mazza è figato aspettate non so se vedete ragazzi il quadrantino quello più piccolo sulla sinistra sì sì non so se si mette non vuole mettere a fuoco giallo e rosso è un cappello di paia pisce vabbè il giorno ma c'è un botto di lancetta sì fighissimo comunque grazie a Casio per insomma il brand G-Shock per avermi scelto perché è veramente una bomba e poi c'è un comando che vabbè se fate punto esclamativo G-Shock sappiate che c'è un comando che vi ricorda come funziona la vendita al pubblico praticamente ci sarà uno shop vabbè si apriano le vendite il 22 luglio di questo affare se vi garba e di questo rologione e poi ci sarà lo shop che lo venderà sarà il negozio a Milano in Corso Como se no si può acquistare su internet se non siete di Milano e insomma pubblicheranno il link il 22 luglio per acquistarlo online quindi comunque ricordatevi del comando perché vabbè comunque è fighissimo non me lo metto mi devi staffare aiutami aiuto eh no lei va dello scuso hai ragione arriverà ehi la amicia ok esiste 20 quanti sono 20 bar water resistance eh bozzi non lo so sai chi fa apnea il lenzi il lenzi lo saprebbe fa apnea fiero autolight ah c'è il 2 mi sta anche bene resistente agli shock lo fiero e al magneto no ma non è così grosso comunque è bello no mi garba poi mi sta fermo uno dei paierologici che mi sta fermo comunque da dove innanzitutto assaggio il whisky figo comunque comando G-Shock ragazzi per tutti i dati se volete acquistare anche voi 300 metri come 300 metri chi c'è io a 300 metri eh bozzi non lo so magari puoi fa apnea con l'orologio con il G-Shock di One Piece schiaccia la testa ma è già regolato no per niente 200 metri di profondità devo impostare quanto costa non lo so è solo di One Piece sotto a 200 metri di profondità comunque eh beh perché di One Piece quindi puoi andare in acqua però se c'è frutto di diavolo non ci puoi andare allora data comunque soddisfatto il tuo soggiorno allora ho deciso stasera però lo porteremo in un posto che forse lo farà ricredere punto interrogativo io spero di no faremo abbiamo deciso di fare GTARP IRL che è una cosa un po' particolare bah si GTARP io spero sia davvero GTARP e non qualche altra cosa RP di essere ingroppato di essere ingroppato dici te lo porteremo a mamma mia nome enormissimo comunque mamma mia cioè perché bah è un musical da normis vabbè mamma mia il live no ragazzi col cazzo uno perché mi bannano col cazzo sicuramente grazie però non fa niente nel senso non c'è nessun tipo di problema il problema è che lui fa tutte facce strane ma no è tranquillo ma non è vero io poi sono iper asociale è per il meme sempre grazie a Davinem a 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 pinco pallotto splash metal batto e obiettivo quarto posto grazie per l'euro ciao data sono un grande fan sai già orientativamente quante sveglie prenderete lunedì spiace ah cosa c'è Roma Lazio Juventus Lazio ma la Lazio ormai non esiste più possiamo parlare grazie Sancio ma per me guarda sono rimasto male quest'anno stavo sognando stavo pure smesso di seguire la Lazio io ciao Dario buonasera da Tom si si in chat dispostivo grazie come sempre una compagnia ci mancherebbe altro forza Roma uno scrive comunque non fa niente ma io sono sportivissimo ultimamente comunque per quanto riguarda la Lazio non pensate male per quanto riguarda cose politiche perché non no tranquilli vabbè hai fatto bene a specificare no perché subito pensano capito no assolutamente no ok un po' conoscendo anche tu anche tu perché io sono tranquillissimo sono un po' ovvio no sono un po' no un po' di un po' no rosso no però cos'è rosso no un pochino il giusto il centro da da stasera ti trombo dice Barabba comunque bella si guarda la massa che a lui almeno in famiglia ok no vabbè Dario meglio la Lazio o l'Inter l'Inter gemellaggio io c'ho nel cuore l'Inter non te ne frega un cazzo no io seguo l'Inter vedi che faccia fa è falsissimo fa gioco e vedo quanto è falso con le facce che fa non te ne frega un cazzo dell'Inter grandissima squadra che c'è l'Inter ha detto non te ne frega un cazzo non è che grandissima squadra guarda che cioè bisogna stare attenti all'Inter vabbè comunque hanno recuperato strada parecchio ce la fanno la Lazio deve morire ovvero dobbiamo vincere noi domani mi socio la Lazio deve morire no nel senso in rp allora ragazzi io e dada oggi chiacchierando facciamo un po' di content io e dada oggi molti sostenerebbero di no io e dada oggi abbiamo no no non puoi mandare ciao grazie a cazzo 96 per l'euro bella dada ti seguo da quando avevi i capelli Lazio merda così doppia stilettata ah la juve dicono in caffetteria comunque questa live sarà un po' più corta perché ovviamente io e dada dobbiamo prepararci per andare e questa sarà tra l'altro l'ultima live prima delle ferie poi noi ragazzi come sapete ci rivedremo venerdì però a me è venuta un'idea chiede cosa succederebbe se io e andassi a su su los santos con te accanto flashback da pietram cos'è questo grazie te non devi dire nulla ovviamente grazie a Emma Whitesnake vabbè sì no ho paura no è meglio di no ma di che c'hai paura? io ho bisogno di te che mi recinti ma perché altro che farei che farei che farei appunto no no difficile l'rp è un po' difficile trovo contenuti quindi si apre un canale che si trovate trovate bonnie troviamo bonnie io non ho il numero però di bonnie è un casino non ho numeri tra l'altro non ne hai preso nemmeno uno nemmeno gennaro niente eh allora come cazzo come si è mai detto che sei lì sì l'ho già aperto G-Shock ragazzi che figata gear fourth gear second peccato perché se no rinuncio a una serata per l'amici con l'amici per Sekiro insomma è abbastanza anche ridicolino gigina buono peppino alla prossima è stato un piacerissimo sei anche abbonato quindi la soddisfazione è maggiore nel bannarti e peppino alla prossima veramente grazie di tutto e se sì oggi si si così almeno si rilassano si fanno una bella settimanetta e poi quando torno forse li sbanno però si rilassano ci sta oppure no grazie Davide grazie a Green Arrow no Davide Ryuk grazie Davide Ryuk l'ottista Green Warrior quanto vuoi ma non avrai mai un cavo quello sicuramente secondo me potevi farcela secondo me no comunque riprenderanno sabato le live ragazzi sabato riprenderanno le live vado in Sicilia sperando che veni ah mi fai tutta una settimana in realtà mi faccio da domenica a venerdì venerdì sabato inizio sì sei giorni c'è manco un IRL no non penso no se è vacanza è vacanza fino al fondo grazie a Fede per l'euro ciao a Dario Faresti auguri al mio ragazzo per il suo compleanno ciao William grazie auguri e grazie a Begna per l'abbonamento grazie a tutti ciao 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 un bacione a tutti ci si rivede fra una settimana mi mancherete ragazzi a parte gli scherzi ciao a tutti ciao 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 a tutti grazie a tutti Grazie.